sentire, facciamoli sentire il benvenuto, ok, io voglio sapere, più o meno quanti siamo ma non siete taccissimi, ho pubblico enorme, gravi, così, tutti vicini, tutti vicini, ok io voglio farvi sentire, anzi voglio farvi sentire che cos'è la Sardegna, facciamoli sentire un po' di casino alla maceta, mio 3, 1, 2, 3 possiamo fare di meglio, ok, adesso ci siamo, allora, io vengo dal decimo anno, sono S per chi non mi conoscesse, guardate anche la rima, grande, ok, quando me hanno chiesto di suonare qui, non ci credevo perché ho fatto sti gazzi, c'è la maceta ragazzi, 5 della maceta, ok, non c'è Salmo, vabbè, pazienza, c'è Jack the Smoker, che cazzo, ero così basso quando iniziato a cantare, quando lui stava già cantando, non quando iniziato, vede lì poi c'è Nitro, DJ's Night, Enigma, Erraton, ok e ho detto, allora ragazzi, io partecipo, che cazzo facevo, dovevo stare a casa, dovevo partecipare, giusto, e ho detto, no, 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 io non sto a casa a guardare che cosa? Il televisore, il televisore così ricoglionito davanti alla tv, ma che cazzo, e quindi io voglio aprire questa serata proprio con questo argomento, una serata che, una traccia che parla della tv, e voglio che tutti quanti ascoltiate attentamente questa cazzo, ok? Ora, vi chiedo solo una cosa, io sono da solo, vi faccio la spalla, vi faccio le doppie, ma da pubblico vi dovete fare solo voi, ok? Quindi fatemi sentire che ci siete, ok? Eh, 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 eh Si sembra che una persona o altra fare qualcosa da si compra Ci si scorda di ciò che c'è da cuore Chi d'accorda a chi è il presentatore? Ma ti importa lo schermo da lezioni Tutti fuori quando sono spinta pochino Ti parlano di fuori, mi piga di tanto sangue Basta, che mondo fuori non è così brutto L'avete trasformato voi in qualcosa di sbagliato Tutto troppo è voluto, fosse tutto è voluto Qualcosa di compiuto che deve essere finito Un ipnotico stato mentale che ora me è seguito E' stato installato su queste teste con più E' un misto di centi di perda ma come il sì All'annoianno 8 seco ma che crunch e che presto E' l'albiU che prende spazio dentro di me Empruva l'energia vitale ma se non c'è E' efendimazzo perché Questa droga con te Non è per parameno finché ci sono i miei colore E' l'albiU che prende spazio dentro di me Empruva l'energia vitale ma se non c'è E' efendimazzo perché Questa droga con te Non è per parameno finché ci sono i miei colore Mi dico dalla regia di leggere ciò che c'è scritto nel compione, qui c'è dislessia, come un'allergia, come una malattia, qui non si riesce a parlare senza tre gli altri piedi, non si capisce niente, io non qui c'ho modo, ci scappa anche l'accaso quando poi ci scappa il corpo, tutto così fritto come un quadro di pito, a differenza che il quadro mi suscita emozioni, sempre sei convinto, tutto mi fa schifo, e già che è trovata, ti dici, il presidente è perito, sta prendendo a grado persone che qui tescono a viso, e tu la guardarai di tutto, Ti ho dato un punto in fisso, ma basta e non connesco, sta prendendo quella sfida e guardare ciò che c'è successo, è una guerra con te stesso, il quadro di un triangolo, lo colloquio all'interno, il quadro di lui, ma di guardateva l'inferno, la riduccia prende spazio, ci siamo! Tu farei non capitare, ma se non c'è, diventi pazzo perché, questa droga è con te, ne prepara meno chi è che ci sono regole, da cui per sempre spazio dentro di lui, tu farei non capitare, ma se non c'è, diventi pazzo perché, questa droga è con te, ne prepara meno chi è che ci sono regole, La protesta forma di tv, non è sempre come dici tu, la riguardenza riguarda di più, la propietà sarà un'esame, la protesta forma di tv, non è sempre come dici tu. La protesta forma di tv, non è sempre come dici tu, la riguardenza riguarda di più, la propietà sarà un'esame, la protesta forma di tv, non è sempre come dici tu.